Una cosa è certa, le allievi di danzarte e la scuola diretta da Rosanna Cossu hanno ben figurato, non solo davanti al numeroso pubblico presente al teatro all'aperto della Fortezza dei Colmi, ma anche al cospetto dei ballerini professionisti ospite della serata, Clè Di Cadio, Ambetato Romani e Alessandro Macario, i primi due volti noti della tv, e l'altro primo ballerino al teatro San Carlo di Napoli, molto applaudite le esibizioni dei tre artisti. Lo spettacolo messo in scena da danzarte rappresentava invece, con una ventina di coreografie, le tappe più importanti della storia dell'umanità, interpretate da una sessantina di ballerine, a partire dalle più piccole tre anni fino a quelle universitarie. La serata è stata presentata da Miriam Baldassarri, presidente dell'Associazione Nazionale a Sodanza Italia. È la sesta volta che vengo alla scuola di Rosanna, alla Maddalena, sono super contento, oramai penso di essere di casa, come si è detto oggi, in un pranzo familiare con tutti i genitori. Sono dieci anni che oggi Rosanna festeggia della scuola, non per caso noi, io, Alessandro, Ambetta, abbiamo il numero dieci dietro la schiena, e è una bella atmosfera. Ovviamente sono passati quasi due o tre anni, ovviamente sappiamo tutti per il cosiddetto Covid, che meno male che non c'è più, e oggi festeggeremo tutto il tempo, diciamo, perso. Grazie a tutti.